Lo stato d'animo conta molto. A volte sei felice ed ottieni grandi risultati altre volte sei arrabbiato e reagisci di impulso. A volte capitano momenti no. Momenti bui in cui non vedi vie d'uscita. Tu non mollare mai e rimani nel tuo buio, usa quel buio per ricaricarti e ripartire, impara a gestire il tuo stato d'animo perché da quello dipendono le tue azioni e le tue azioni generano risultati. Tu non puoi controllare quello che accade all'esterno, ma puoi controllare quello che accade dentro di te. Controlla i tuoi pensieri. Controlla le immagini, i suoni e i film che ti passano nella mente perché quelle immagini generano stati d'animo. Quelle immagini cambiano la tua biochimica, i pensieri sono cose, hanno una forza e modificano la chimica del tuo corpo. Se ti chiedessi di stare in silenzio senza pensieri per mezz'ora ci riusciresti? Se la risposta è no allora significa che non hai controllo sui tuoi pensieri, allora non sei tu a pensare, e quello che avviene è qualcos'altro. Se ti dico di alzare la mano riesci a farlo a comando? Mica la mano si alza e si abbassa a suo piacimento sei tu che decidi quando farlo, e perché con i pensieri non è così? Perché non sei abituato, sei nato e cresciuto lasciando che la mente andasse per i fatti suoi, ma tu non sei la mente, la mente è uno strumento come la mano. Allenati a controllare i tuoi pensieri e diventerai padrone dei tuoi stati d'animo, diventa leader di te stesso. Puoi farlo.